Mantua di nuovo in campo domani dopo due successi consecutivi contro Mattelica e Fano. I biancorossi di M.Truise affronteranno al martelli limolese. Mantua che ha chiamato a dare continuità dei risultati contro un avversario, sicuramente alla portata. Siamo ancora in una fase di costruzione, insomma, vediamo che ci sono partite in questo momento molto equilibrate. Cercare magari di cavalcare l'onda dell'entusiasmo di queste due vittorie. Mettere in campo quell'autostima, quella consapevolezza, insomma, che possiamo giocarcela contro tutti. Davvero tanti le essenze in casa biancorossa. Sette i giocatori che nella giornata di ieri non hanno preso parte della seduta d'allenamento e sull'inserata si saprà se almeno Gaza potrà essere almeno tre convocati. Complici di tante assenze, il tecnico virgiliano potrebbe far fronte a qualche cambio di modulo. Dobbiamo concentrarci sulle cose da fare. È una partita con due punti in palio importanti. Giochiamo in casa. Ripeto, dobbiamo essere bravi a cavalcare con il giusto equilibrio l'entusiasmo creato in queste due settimane. Consapevoli che si riparte da zero e c'è da conquistare un'altra prestazione importante. Mi auguro il bottino pieno. Considerate un po' le assenze di questa settimana. Abbiamo lavorato su più sistemi di gioco, ma questa è un po' la costante che stiamo ricercando. Anche dal secondo tempo che è scaturito a Fano, la conferma è che il sistema di gioco può variare, ma quello che poi conta di più è l'interpretazione della gara. Altra sfida, tre punti in palio, questa volta pesanti contro i Felsini. Sfida contro una diratta concorrente per la salvezza, anche se il match di domani può valere i vertici della classifica. Dobbiamo andare troppo in là con i calcoli e dobbiamo concentrarci su quella che è la partita di domani, sapendo che giochiamo in casa, i ragazzi stanno bene, i ragazzi crescono anche nell'affiatamento, quindi al di là di quella che può essere qualche assenza, poi sono convinto che loro metteranno in campo prima di tutto la squadra. Con la gara di domani, sicuramente il primo mese di campionato, qualcosa da rivedere c'è sicuramente, il manto deve ancora trovare il giusto equilibrio tra le due fasi di gioco, ma Troise è più che soddisfatto. Abbiamo cominciato con qualche difficoltà, considerato il periodo di ritardo, considerato una squadra da costruire, quindi direi buono, però credo che ci siano ancora tanti margini e dobbiamo sempre alzare l'asticella, consapevoli che possiamo migliorare di settimana insieme. È un gruppo straordinario, non smetterò mai di dirlo, che si è cementato in brevissimo tempo, anche gli ultimi arrivi sono stati inseriti molto bene, quindi questo è un grosso merito, ripeto, di un gruppo che è pieno di valori, di senso del dovere e senso di appartenenza. Il tecnico campani tanto avverte tutti, occhio al limolese. Un avversario complicato, complicato perché hanno costruito una squadra con un giusto mix di giovani molto validi, affiancati dai cosiddetti veterani, giocatori di esperienza di categoria, riesce a mettere in campo qualità, quantità, giusto equilibrio, quindi grosso rispetto per questo mix, per un bravo tecnico e per una squadra che fino ad oggi in queste sette gare ha espresso sempre delle buone prestazioni.